Maurizio, ho detto sabato, non martedì, sabato. Va bene, ciao. Signorina Skinner, potrei parlarle un momento? Scermotta! Stupida stronza indisciplinata. Meno male che mi pagate un sacco di soldi. Ti rendi conto che ci sono squadre di sorveglianza che in questo momento stanno controllando questo posto? Le tulline telefoniche sono sicuramente sotto controllo e tu te la tiri e flerti come una puttana con questo Rehnquist che potrebbe essere... È risultato pulito! Non tollero gli errori. Dimmi cosa devo fare. Scopri dove si trova questo Rehnquist.